Don Mario Galbiati, ben trovato, benvenuto. Don Mario è lombardo, ha 86 anni, 63 di sacerdozio, fondatore di Radio Maria e di Radiomater e la Madonna. Illuminazione dal cielo. Sono delle emittenti strane, strane e sono guardate anche con un po' di sospetto perché sono radio che sembrano roba di preti, roba soltanto di religiosi, ma hanno una fedeltà pazzesca di ascoltatori e sono diventate una presenza molto potente anche nell'etere. Andiamo con ordine. Lei viene da una famiglia numerosa? Sì, una famiglia che realmente ha lasciato un'impronta. Sette figli? Sette figli, ma con un papà e una mamma con una fede grande che hanno influito anche sulla mia formazione e sulla mia vocazione. Cuore Lombardo è entrato in seminario giovanissimo, a 11 anni. Ma perché vi facevano entrare così presto in seminario? Troppo presto. A 11 anni ma ho incominciato dai salesiani, a Chiari, tre anni. Ma per studiare? Perché così presto? Sì, perché era così. Una volta c'era anche il seminario minore in cui si entrava a questa età per poter poi tutto il cammino sentirlo come un orientamento. Ma lei lo ricorda come un periodo triste, tolto la sua famiglia così giovane o no? Beh certo, mi è dispiaciuto allontanarmi dalla mia famiglia, ma sentivo dentro nel cuore che dovevo prendere questa strada. Davvero? Sì, anzi, racconto come ho avvisato i miei genitori di questo. Era il mese di ottobre, il mese del rosario e io come carichetto alla sera volevo essere presente al rosario in parrocchia. Allora abbiamo fatto cena con tutta la mia famiglia, poi sono uscito di casa chiudendo la porta, poi l'ho riaperta, ho cacciato la testa in casa e ho gridato e io voglio andare in seminario. Ho chiuso la porta e sono andato in chiesa. Potete immaginare nella mia famiglia che cosa è successo quella sera lì, ma quando sono tornato da casa ormai il sì era totale, l'entusiasmo... Non si è mai pentito Don Mario? No, no, anche quando sono partito erano gli anni della guerra, 41-44, non c'era neanche tanto cibo che poteva soddisfarci nella nostra età, ma non ho mai sentito proprio il rincrescimento della scelta fatta. E in tutta la vita non si è mai pentito? Mai, 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 mai? No, no. 63 anni? Sentivo proprio che il Signore mi aveva chiamato. Senta, lei da bambino giocava a celebrare messa? Sì. Ma giocava pallone anche? Anche. E non solo a pallone, lei è diventato molto presto allenatore e presidente di una squadra di basket. Di basket, di pallacanestro ad Albavilla, nei tredici anni del mio primo sacerdote. E' stato parroco? Sì, siccome a Sant'Albino, la mia parrocchia nativa, c'era questa squadra in cui c'erano tutti i miei amici e allora quando sono arrivato dal Bavilla ho voluto mettere il basket, la pallacanestro là e siccome non c'era nessuno che spiegava le regole e come si gioca, ho fatto anche quello. Ma le piaceva anche giocare? Mi piaceva. Come Don Bosco che tirava su i ragazzi dalla strada giocando a pallone, giocando. Ho fatto questo, sì. E non mi pento perché questa squadra che ha iniziato in oratorio adesso ad Albavilla è in una serie importante, tanto che il comune ha dovuto fare anche il palazzetto dello sport ad Albavilla perché ad un certo grado non si può più giocare all'aperto ma si deve giocare interna. È diventata una squadra importante quindi lei è stato un pioniere in campo sportivo ma soprattutto nel campo delle comunicazioni perché il 19 febbraio 1983 lei era parroco inizia quel che lei chiama il suo apostolato radiofonico, cioè nasce Radio Maria e dicevo prima non è un nome comune, Maria è la Madonna. sembrava una cosa da matti nel 1983. Le radio libere erano tutte anticlericali e poi c'erano delle radio delle congregazioni religiose perché la Chiesa è sempre stata attenta alla comunicazione. Sì, sì e ho sentito questa chiamata dal cielo, io non c'entro in questo, è proprio stato un qualcosa che ho sentito dentro. C'era la missione cittadina erba e proprio dal cielo è venuta l'ispirazione di far sentire la preghiera e la parola di Dio che la missione cittadina avrebbe portato nelle varie chiese della città anche nelle case perché pensavo agli ammalati che non potevano venire in chiesa ma pensavo anche non so se era un pensiero mio illusorio o meno che attraverso la radio anche quelli che in chiesa in quel momento non si sentivano ancora di venire attraverso la radio magari sentito per caso avrebbero ascoltato una parola del Signore e magari il Signore avrebbe messo in quella parola la grazia di far capire che viveva una vita senza di Lui e quindi diventava una chiamata a ritornare a Dio così ho avvertito nel mio cuore. Ma lei ascoltava la radio? Era esperto di radio? Come è venuta questa idea? Io non ero esperto di radio, non sapevo niente di radio. Quando ho avvertito questo ho chiesto appunto a Radio Nova De Paolini di Milano che aveva come direttore una della mia parrocchia di San Albino di Monza. Come si faceva? Lui mi ha indicato uno di Modena che faceva le radio locali e lui mi ha indicato come? Mi ha indicato anche uno, un esperto che io ho chiamato, abbiamo messo l'antenna sul campanile ed è nata Radio Maria del Campanile. Ed è nata tutta con volontari, no? Tutti con ragazzi. Tutti volontari, sì, sì. Era un'epoca esaltante quella, le chiamavamo le radio private o le radio libere. Era molto bella, ci sembrava davvero di poter usare l'aria per trasmettere dei messaggi, per trasmettere delle cose. C'erano un sacco di speranze, un sacco di ragazzi che poi sono diventati esperti anche del mezzo. Ecco, dicevo prima, la Chiesa è stata presente da subito in questa realtà. Sì, perché quello che io avvertivo dentro era di aiutare a pregare, perché senza preghiera evidentemente la vita scade di tono. Ma se la gente prega sempre di meno? Beh, ma allora io ho avvertito che hanno seguito la missione cittadina e al termine della missione cittadina sono stati quelli della parrocchia che mi hanno detto non smettiamo adesso la radio, ma continuiamola. E quindi arrivavano in casa le sante messe che celebravo, i rosari, venivano le telefonate e quindi… È vero che lei è stato il primo che ha introdotto le telefonate in diretta in radio? Prima non so, ma le telefonate arrivavano dalle famiglie e quindi si è incominciata a creare una nuova famiglia delle lettere che io ho messo nelle mani della Madonna e ho detto adesso c'è, certamente tu l'hai voluta dal cielo perché se no io non ero capace di fare queste cose. Tu l'hai voluta adesso portala avanti tu perché sia una radio di preghiera, di parola di Dio, di conforto che soffre e di familiarità. Senta, padre Galbiati, lei si è inventato, in realtà la mette facile, ma si è inventato un modo in controtendenza, rivoluzionario di fare radio, niente pubblicità, nessun riferimento ai dati d'ascolto. Mai. Gli altri non facevano così. Mai. E poi soprattutto una radio che aveva il timbro della spiritualità, quindi non tanto delle notizie umane, ma proprio aiutava a rendere la giornata una giornata in cui chi la viveva sentiva che la sua vita veniva da Dio e che quindi doveva vivere con Dio. Senta, padre lei è un uomo di grande... hanno detto questo, ma in realtà è durata ed è veramente seguita da tanti, perché anche la seconda radio, Radiomater, è seguita veramente da tanti. Ma chi è che telefona? Chi è la gente che segue? Sono tutti anziani? No, 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 anche giovani, anche giovani, perché sentono che realmente è un aiuto a capire la giovinezza in una certa maniera diversa da come la sentono tanti altri, ma dando veramente alla propria giovinezza una sicurezza di avere la strada giusta, di stare percorrendo la strada giusta, vivendola con Dio e con la Chiesa. Senta, nel febbraio, l'11 febbraio, quel giorno della Madonna di Lourdes, del 1994 nasce Radiomater. Sì. Erano passati dieci anni. Allora, Radiomaria, Radiomaria, abbiamo capito che lei ha questa passione, questa dedizione, ma perché questa nuova radio? Perché per lei si è conclusa l'esperienza di Radiomaria, che è un nome importante tutt'oggi nel mondo radiofonico? Sì, perché continuando Radiomaria io sentivo che realmente la Chiesa doveva essere di sostegno a questa radio. Volevo uno della CEI e uno della Diocesi nel Consiglio di Radiomaria. Quando ho proposto questo, altri che collaborano con me, mandati misteriosamente, non hanno accettato questo. E quindi, purtroppo, Radiomaria mi è stata tolta. E allora sono andato parecchie volte anche a Roma a dire quello che stava succedendo e allora vedendo che Radiomaria non sarebbe più tornata da me, hanno detto fa una seconda radio. Quindi anche la seconda radio non l'ho fatta per un mio hobby, l'ho fatta perché me l'ha detto la Chiesa. Fanne una seconda. Allora mi faccia capire, Don Mario Galbiati, non erano differenze di carattere o di gestione, era proprio un'impostazione diversa. Un'impostazione, cioè non volevano la Chiesa, volevano una ditta privata. Tant'è vero che quando ho insistito per avere la Chiesa dentro, improvvisamente sono stato strappato. C'è anche un'impostazione religiosa diversa, no? Sì. Sono andati avanti cercando di mantenere l'impostazione a carattere spirituale e religioso, ma senza quella Chiesa che io sentivo, proprio come mamma che doveva seguirmi, come la Madonna, la Madonna dal cielo, la Chiesa dalla terra. Senta anche quando la Chiesa è un po' sorda oppure sente poco? Ma io non ho avvertito questo. Io ero convinto che il cielo me l'avesse suggerito e quindi sono andato avanti senza farmi tanti problemi. La Chiesa mi vuole, non mi vuole, mi ascolta, non mi ascolta. Io sentivo la Chiesa e quindi andavo avanti. Poi ha dedicato tutta la vita alla Chiesa, non è che poteva mettersi con. Andavo avanti con questo desiderio che volevo far diventare tutta la mia vita. Sai perché, padre Mario, Radio Maria è vista con una certa apprensione dalla Chiesa oggi, soprattutto ultimamente, perché per certe posizioni un po' assolutiste, un po' rigide, e anche per una grande autonomia rispetto a certe posizioni ufficiali. Per esempio, la storia dei veggenti di Medjugorje. Noi sappiamo che quello è un capitolo aperto da oltre 30 anni, su cui però non c'è ancora stata una espressione ufficiale della Chiesa. E quindi lei ha pensato che non era bene tutti i giorni dare voce a delle persone che non erano riconosciute dalla Chiesa come aventi visioni. Medjugorje l'ho conosciuto anch'io. E quindi quando anche la Medjugorje hanno chiesto, sapendo di questa radio, di trasmettere i messaggi, sono stati trasmessi i messaggi, ma perché erano un invito alla preghiera, non perché si voleva andare avanti al giudizio della Chiesa. Non c'è mai stato questo problema. Si credeva che la Chiesa approvasse tutto quello che era spirituale e che aiutava nel pregare e nel vivere cristianamente, per cui i messaggi in Radio Maria sono entrati, proprio perché Vegente, Padre Slavko, che dirigeva Medjugorje, ce l'avevano chiesto. Poi era la realtà di cristiani, di gente che si convertiva a quella, no? Quindi le conversioni c'erano, perciò io non ho avuto rimossi in questo. In buona fede. Però devo aggiungere che quando è nata Radio Mater, la seconda radio e la Chiesa, dicendomi di farla nascere, mi ha detto anche di non parlare più di apparizioni private, da quel momento la parola Medjugorje nella mia bocca non è mai uscita in Radio Maria Maria. Ma quanto le costa essere così obbediente? Non mi è costato. No, non mi è costato perché io sento nel cuore che quello che la Chiesa chiede, lo chiede Gesù. Noi siamo un po' snob verso la tradizione popolare, vero? Verso la devozione popolare. Come se fosse superstizione. Perché forse la vediamo esagerata, ma non è mai esagerata. Quello che si fa verso la Madonna, non si ferma alla Madonna. Attraverso di lei va Gesù, il quale per noi ha fatto tutto. È morto perfino in croce. Quindi tutto quello che faremo non sarà mai abbastanza per parificare quello che ha fatto Gesù. Padre Galbiati, spesso, magari era solo delle persone più anziane, ma qualche volta, lo vediamo ancora, si mette sullo stesso piano. I Santi, la Madonna, Gesù, trasformando la religione di Dio in una religione di dei. non credo di arrivare fino a quel punto lì. La gente proprio ha fiducia nella Madonna, ha fiducia nei Santi, ma non credo che parifichino Madonna e Santi a Gesù. Magari è un modo interiore di capire la vicinanza con i Santi e con la Madonna, ma non escludono certamente che Gesù è l'unico cui dobbiamo rifarci. E quando anche preghiamo la Madonna e preghiamo i Santi, non tengono loro quello che esce dal nostro cuore, lo prendono e lo portano a Gesù. Senta, Radio Maria ormai si trova in tantissimi posti in Europa. Radio Mater in quasi tutte le regioni d'Italia. In Europa con satellite. Lei non sa all'inizio del mese come arrivare alla fine, è vero? Sì, noi all'inizio del mese diciamo arrivare alla provvidenza e andremo avanti un altro mese. E i soldi da dove vengono? Offerte della gente, sacrifici della gente, sacrifici... Ma parliamo di tanti soldi, sono... Pensioni della gente. Tolgono anche dalla pensione per aiutare una radio che per loro è diventata la vita. Ultimamente noi abbiamo dovuto smettere una frequenza. Ebbene, uno che sentivo questa frequenza mi telefono, perché non si sente più? Perché senza Mater non è più vita. A questi punti. Senta, i soldi arrivano per pagare tutta la parte tecnica perché chi lavora a Radio Mater sono volontari. Volontari. Quindi gratuitamente. Gratuitamente, sì. E quanti sono i collaboratori vostri? Abbiamo uno fisso che è il regista e quello è giusto che gli diamo da vivere in famiglia. Poi tutti gli altri che sono più di cento vengono e danno tempo chilometri con la macchina senza pagare a noi la benzina. Danno il tempo e la vita, la vita perché sacrifici la sono tanti. Pensate che Radio Mater fa in diretta tutte le notti dalle 2 alle 6 di preghiera. non c'è nessuna radio che preghi in diretta dalle 2 alle 6. Radio Mater fa la preghiera in diretta dalle 2 alle 6 del mattino pensi ai sacrifici di questa gente. E chi telefona? Cosa dice chi telefona? Cosa chiede? Porta preghiera. Prega. Per telefono si rivolge a Gesù che l'ha aperto sull'altare e si rivolge come se fosse in capellino senza fare parole umane preghiere. Ma quando dicono che il mondo è sempre più scristianizzato che c'è sempre meno interesse per le domande su Dio da parte dei giovani eccetera è la sua esperienza o lei vive in un altro mondo? Com'è? È vero questo ne vediamo tante di cose negative tant'è vero che io mi chiedo sempre Signore come fai a sopportare questa umanità così cattiva così immorale così senza di te così legata alla terra ma mi creda insieme a questa gente che vede la vita solamente su orizzonti terreni ce ne sono ancora tanti che Dio lo sentono che Gesù lo sentono che la Madonna e i Santi li sentono come parte essenziale della loro vita. Senta nelle preghiere c'è anche lo sguardo ai lontani alle persone ai cristiani lontani che non vivono nel nostro piccolo mondo? Certamente lo diciamo sempre insieme proprio per i non credenti ecco che ci sia veramente quel colpo di grazia che li porti veramente a ritornare ho un rosario dell'intenzione io ad ogni Ave Maria un'intenzione e una delle Ave Maria con la sua intenzione è mamma perché io mi rivolgo alla Madonna chiamandola mamma da sempre mamma fa che quelli che non vengono più in chiesa ritornino quelli che non credono credono quelli che sono in peccato si convertono e quelli che vogliono fare leggi contro il tuo Gesù e il suo Vangelo tocca il cuore e ce ne sono tantissime che senz'altro dalla preghiera saranno riportati al bene io so che c'è un sacco di gente che vi telefona anche personaggi importanti persone che non ci si aspetta vero? sì lei è un bravo prete speriamo è un bravo prete è bella che questa tonaca che non si vede più per lei è un segno di una presenza è un segno e io quando celebro il pomeriggio in radiomater dalla capellina la indosso sempre perché quando l'ho indossata ho promesso veramente che non l'avrei più smessa come vita e speriamo di non smetterla neanche come vestito mi regala una canzone che le piace tanto che usiamo per chiudere questa nostra chiacchierata un canto che lei ama tantissimo vediamo se indovino io già indovino mamma ti amo mamma ti amo sono tuo figlio mi dono a te mamma ti amo mamma ti amo tutto t'affido pensaci tu anche la radio anche la radio anche la radio grazie Paddon Mario grazie grazie davvero tante grazie grazie Monica grazie a tutti mamma ti amo mamma ti amo sono tuo figlio mi dono a te mamma ti amo mamma ti amo tutto t'affido pensaci tu tu sei Maria immacolata nessun peccato mai ti sfiorò tu voglio mamma ogni tuo figlio senza peccato simile a te mamma ti amo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti